Si apre un nuovo orizzonte sulla scena politica di Battipaglia. Dal congresso dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, riuniti a Torino nei giorni scorsi, arriva con forza la volontà del Governo nazionale, almeno da parte della componente leghista, di estendere il mandato dei primi cittadini ad un terzo, senza limite alcuno di popolazione. Al momento esso è stato abolito per i piccoli comuni, mentre tra i 3.000 e i 15.000 c'è già l'astenzione alla terza legislatura. Matteo Salvini e con lui numerosi alleati di centrodestra, ma anche rivali politici di centrosinistra, vedi Vincenzo De Luca, punta ad ottenere il terzo mandato anche per le città. Ipotesi questa che riguarda molto da vicino proprio Battipaglia. Maggioranza e minoranza, o forse è meglio dire minoranze, stanno lavorando per il dopo francese. Ma se la volontà salviniana, condivisa da molti, dovesse diventare realtà, non ci sarà alcun dopo francese e nessuna eredità da raccogliere. La prima cittadina, negli studi di Sud TV, ha confermato la volontà di ricandidarsi alla guida della propria città, qualora potesse averne la possibilità. Negli ultimi mesi era sempre più forte la voce di una sua candidatura alle prossime regionali, in appoggio al presidente uscente De Luca, che correrà sì per il terzo mandato, ma questo nuovo scenario cambia le carte in tavola. Cambiamenti in atto che interessano sia l'attuale maggioranza che le opposizioni. Per chi amministra piccole modifiche, la campagna elettorale sarà in continuità. Chi invece è l'opposizione dovrà trovare la guida per sfidare nuovamente Cecilia Francese, e ciò potrebbe essere da ingerenza tanto per le alleanze, quanto per l'individuazione dei nomi che scenderanno in campo. Al momento l'unico certo è quello di Michele Gioia, esponente di Fratelli d'Italia, che potrebbe unire sotto di sé parte del centrodestra cittadino. Si voterà nel 2026, ma battipaglia la campagna elettorale è già cominciata. Grazie.